Sono più grandi di me ma cominciamo Apriamo insieme tutti i pacchettini che mi sono arrivati in questi giorni Giacchettino da parte di NYX che mi ha mandato innanzitutto questo giacchettino stile college logato NYX Adoro Ma soprattutto un super rifornimento di prodotti per le sopracciglia Io adoro i prodotti e sopracciglia di NYX Soprattutto il mio preferito che non trovo, vediamo dov'è lui Questo Fee Kit Stee Kit Non so quante volte io ve ne abbia parlato ma lui è il mio prodotto preferito in assoluto Il GHD mi ha mandato la nuova GHD Kronos in questa colorazione bianca bellissima che non avevo E non vedo l'ora di provarla e mi hanno mandato anche uno dei nuovi GHD Bodyguard Avon mi ha mandato questo pacchettino super cute rosa E all'interno c'è un siero fondotinta, due rossettini e anche un massaggiatore viso e corpo Questo pacchettino mi è piaciuto tantissimo perché è di Diego Dalla Parma All'interno c'è la nuova collezione Spring Summer Collection 2024 Ci sono un sacco di prodotti fighissimi Credo che per questi prodotti farò un video a parte Perché ad esempio c'è questa palettina E guardate se ci riesco Guardate il blush Cioè io sono rimasta senza parole Io adoro queste colorazioni così rosa C'è una cipria sempre rosa e anche un pennellino di precisione per applicare la cipria Un primer sempre rosa ed è super idratante e illuminante e anche un drossettino Ho ricevuto anche due pacchettini da parte di Freshly, brand che io adoro In questo pacchettino minuscolo c'è una maschera viso E invece in questo pacco più grande c'è una skincare completa per pelle acne Che non vedo l'ora di provarla Altra box piena di prodotti skincare per pelli acne da parte di Caudalie E sempre da parte di Caudalie ho ricevuto un'altra box con prodotti makeup E c'è la famosissima crema colorata che è diventata super virale in tutte le shade La proveremo assolutamente insieme E c'è anche la powder abbronzante, cioè la cipria abbronzante Io l'ho già provata sul palmo della mano e sono rimasta scioccata Un pacchettino di New Era per la festa delle donne Considerati che io ho una vera ossessione per i cappellini New Era Quindi sono felicissima di aver ricevuto questa kit E ci sono due cappellini Questo infatti con le mimose e anche questo nero sempre con la mimosa Pacchettino da parte di Mulac Che questa volta mi ha mandato un'auto abbronzante L'ho visto già in uso su altri creators e sono molto curiosa Tra l'altro sul cello di Mulac mi sembra che una spesa minima di 50€ Questo qua ve lo mandano gratis, quindi top Non concludiamo con i nostri soliti prodotti makeup Ma per questa volta se magna ragazze Perché mi è arrivato un pacco da parte di Leis Le patatine con una ciotola Diciamo che questo pacco mi è arrivato per la Champions League Io non seguo il calcio ma sicuramente mangio patatine Tantissime Eccolo qua Adoro Poi che figata mi è arrivata questa pinza per chiudere le patatine una volta aperte Ma tanto manco le richiudo perché me le mangio tutte con la bocca Ciao Ciao